Quello che sta succedendo in Nigeria e comunque il giro per l'Africa è che la polizia sta continuando di ucciderci, sta uccidendo la sua gente senza un motivo, senza neanche vedere se sono bambini, donne, uomini che stanno uccidendo e che ci stanno uccendo, anzi fanno finta di niente, anche il presidente fa finta di niente. Abbiamo bisogno che questa cosa finisca, assolutamente, perché non possiamo perdere le altre persone. Questa vostra protesta è molto importante e secondo voi ha qualche relazione con quello che è successo a George Floyd in America? No, penso che sia proprio un'altra cosa. Però è vero che comunque la polizia uccide in tutti gli stati, lì c'è un problema di razzismo. Quello c'è sempre, il razzismo ci sarà sempre in qualunque luogo, in qualunque luogo, pure tra bambini, in qualunque luogo. Ok, quindi per voi questa è una manifestazione di solidarietà ai vostri fratelli e sorelle in Nigeria per dire stop SARS, però è anche, secondo me è molto forte perché siete venuti in pietra a castello in Italia e quindi è anche una cosa così. Perché nessuno vuole far sentire la nostra voce, ci chiudono e questo non va bene. Perché quando le cose vanno per allora, quando c'è stata la cosa di George Floyd che erano tutti i Black Lives Matter andava bene, però quando poi succede qualcosa in Africa lì nessuno ne parla. In televisione tutti è George Floyd di qua, George Floyd di là, le protezioni di qualità per ora che sta succedendo qualcosa in Nigeria e nessuno ne parla. E questo è una forma di razzismo allora in qualche modo. Perché quando muoiono tanti neri non gli interessa nessuno se muoiono in Nigeria. Se invece muoiono in America lì allora sì, perché in America poi diventi popolare per aver fatto una cosa buona. E anche l'influenza in cui stanno portando, allora non l'ho stato facendo niente. Ok, grazie. Io voglio protestare per il mio paese che è in Nigeria e per anche tutta l'Africa. Perché sta succedendo questa cosa in tutta l'Africa, ma praticamente in Nigeria, che i poliziotti sono diventati più aggressivi, e hanno ucciso delle persone in Africa, è successo questa cosa perché hanno aiutato a protestare per cambiare i presidenti. I presidenti che c'è ditta la città. E i poliziotti che entrano molto più aggressivi ogni giorno, uccidono le persone. Io vi faccio un esempio ora, che l'esempio è che voi siete andando in macchina in Nigeria e i poliziotti vi fermano dicendo datemi i soldi. E voi dite che io non ce l'ho. E voi dite no io non ve lo do, vi uccidono subito. E sta succedendo questa cosa in Africa. Non so, io vedo molte persone che non conoscono questa cosa, ma per favore, se ci volete aiutare tutta l'Africa e tutti i neri, dite Hand us, hand us, hand us. Perché vi prego, aiutateci per cambiare in Nigeria e tutta l'Africa. Come sapete siamo tutti poveri e questa cosa che nessuno ha cibo, anche i bambini della mia vita non possono più andare a scuola a studiare, mi fanno molto male. Io ho 13 anni e sto in stanza in my community. Grazie a tutti. Grazie a tutti.